Nuove restrizioni nella provincia Bat, i comuni di Andria, Barletta e Margherita di Savoia corrono ai ripari con nuove ordinanze finalizzate a limitare quanto possibile la diffusione del Covid-19. Sotto la lente di ingrandimento, strade, piazze ed esercizi commerciali, ad Andria il sindaco Giovanna Bruno ha disposto il divieto di stazionamento in tutto il centro storico, nello specifico in via Regina Margherita, via Lecrispi, via Cavallotti, via Cittadella, Corso Cavour, piazza Vittorio Emanuele II e piazza Duomo dalle ore 18 alle ore 22 di sabato 14 novembre, mentre domenica 15 dalle 8 alle 22, vietando di fatto passeggiate ed assembramenti nel weekend, consentito l'accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e ovviamente alle abitazioni private. A Barletta il sindaco Cannito ha disposto la chiusura delle attività commerciali alle ore 20, a partire da sabato 14 novembre, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari ed altri beni di prima necessità, come definiti dai DPCM. Una misura, si legge in una nota del Comune, resa necessaria dall'aumento dei contagi nelle ultime ore. A Margherita di Savoia, invece, il sindaco lo dispoto anticipato di un'ora la stessa misura, istituendo la chiusura delle attività alle ore 19, lasciando la libertà di effettuare l'orario continuato. Con il primo cittadino salinaro si sono allineati anche i comuni di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia. Resta invariata la situazione nella città di Trani, con l'ordinanza del sindaco Bottaro di circa dieci giorni fa, che già impone il divieto di transito e stazionamento in alcune zone sensibili del paese a partire dalle ore 18, fatta eccezione per l'accesso ed il deflusso alle abitazioni private, agli esercizi commerciali legittimamente aperti agli spostamenti determinati, da esigenze lavorative, attività sportiva o motoria individuale, situazioni di necessità, ovvero motivi di salute.